Il campionato degli italiani 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 2004 2004 Dieci anni non senza calcio Senza il ruolo di dirigente Si vive meglio? Si vive lo stesso Non si vive meglio Non si vive peggio Riflettevo venendo che Il pallone Messo in un gruppo di ragazzini Fa subito diventare nemici tutti Un pallone messo in mano Dei dirigenti Li fa diventare forse nemici Subito tutti Quindi Nel bene e nel male Il pallone molte volte A seconda del ruolo Che uno vuole ricoprire Ricopre Porta delle situazioni Delle conseguenze Che possono essere positive O negative Sono stati dieci anni senza calcio Molti anche senza calcio Visto in televisione Devo dire Nel senso che Dopo tanti anni di calcio Forse all'inizio C'era proprio un rifiuto Proprio nel vedere il calcio Giocato anche Anche perché sono Erano anni in cui Di pulito nel calcio C'era poco Noi siamo usciti In un momento in cui Se vi ricordate Un po' tutti Perché avete vissuto Quei momenti Erano momenti di Fiduzioni fasulle Contributi non pagati Stipendi non pagati Società che annaspavano E però Venivano iscritte Lo stesso Nel corso dei campionati E c'era una disparità Di Di trattamento No più che di trattamento C'era una disparità Proprio di Di poter Combattere E gareggiare Con queste altre squadre Competere con queste altre squadre Perché Tu volevi fare le cose Per come era giusto E invece Ma noi i risultati Vi hanno dato ragione Sotto quell'aspetto Perché se il pescara Quando le annate Sono state storte È stato ripescato Perché i bilanci Erano puliti Però retrocedevamo sul campo Quello era il problema Nel senso che Molti non retrocedevano Sul campo Ma poi finanziariamente Erano tutte Società dissestate Noi purtroppo Retrocedevamo sul campo Per mantenere Gli equilibri Finanziari e economici Di una società Come è giusto Che deve essere Perché bisogna Bisogna rispettare le regole Bisogna rispettare Quelle che sono Le normali condizioni Di gestione Di una società Noi pagavamo Poi sul campo Quelli che erano Il modo Quello che era Il modo corretto Di poter gestire Una società Ecco A distanza Di dieci anni Poi sentiremo Anche gli altri amici Perché la vostra gestione Soprattutto con il Compianto Comandatore Cibile È durata Diciotto anni Quindi è iniziato Prima Prima di lei Ecco A distanza Di dieci anni Cosa è rimasto Di quel periodo A me è rimasto Tantissimo Tantissimo Ma ancora oggi Girando per Per Pescara Non solo per Pescara Forse in quel momento Soprattutto negli ultimi anni C'erano eccessive critiche Poi Come sempre Quando si perde Un qualcosa Lo si rimpiange Ma guarda Le critiche Le abbiamo sempre accettate Accettate anche se Ritenute qualche volta Anche ingiuste Qualche volte gli errori Li abbiamo commessi pure noi Chi fa qualcosa Oggi come oggi Rischia sempre di sbagliare Quindi gli errori Ne abbiamo commessi Abbiamo accettato Molte critiche Anzi forse Alcune molto pesanti Però devo dire Che a noi A me personalmente Ha lasciato un grande ricordo Per Pescara Ma anche la gente Di Pescara Ha lasciato un grande ricordo Perché è una tifoseria Come quella di Pescara Poche Ma veramente poche città Se la possono permettere E ne possono dare lustro E beneficio Per la società di calcio Quindi Io Della mia esperienza Personale Nel mondo del calcio Ho solo ricordi Veramente positivi Certo Le retrocessioni E le sconfitte Hanno pesato Come pesano Ad ogni tifoso Perché noi eravamo Tifosi Ma anche proprietari Di una società E quindi Pagavamo doppiamente Le pene Però Devo dire Insomma Sono molto più I ricordi positivi Che quelli negativi Sicuramente Ecco Adesso coinvolgiamo Tutti gli amici Mi perdonate Se vi do del tu Perché siete veramente Degli amici Da decenni Quindi Luigi Ti ricordi Proprio in quel periodo Facciamo trasmissioni Insieme Tutte le turbulenze I momenti belli Le promozioni Però È stato Un periodo Chiave Nella storia Del calcio Pescarese E loro Sono stati Veramente Tenaci Anche nei momenti Di grossa difficoltà E di critiche Se vogliamo Severe Sono stati due grandi personaggi Perché il commentatore È stato un grande personaggio Del calcio pescarese Che ha lasciato Un ricordo Ancora vivo E anche A chi Contestava In maniera anche feroce Io ricordo anche Striscioni Invettive Offese Che ferivano Profondamente Il commentatore Anche dal punto di vista Umano Però poi come succede Succede in politica Succede in tante circostanze Poi quando Alcuni personaggi Non hanno più Quella responsabilità E quindi ne arrivano E quindi ne arrivano altri Discussi Discutibili Non mi riferisco A quelli di oggi Ma mi riferisco Al periodo Travagliatissimo Che poi è seguito Alla fuoriuscita Del gruppo Sibile Oliveri Dalla dirigenza Poi si rimpiange Poi si rimpiange Chi c'era Antonio è stato Un dirigente Secondo me Sera ordinario Persona giovane Che tra l'altro Doveva anche conciliare Il suo ruolo Di persona Che era assolutamente Capace di guidare Il Pescara Anche con La presenza Carismatica Autorevole Di questo rapporto Di parentela Con il suocero Con il commendatore Di grande rispetto Dovuto a quest'uomo E forse il ruolo Più difficile Ce l'aveva proprio Antonio Oliveri Il quale però Sapeva perfettamente Misurare ogni parola Ogni gesto E ogni scelta Rispettando l'uomo E facendo comunque Sempre apparire E rispettando La figura del Presidente Di questo credo che Tutti gliele diamo atto Era una difficoltà Avere un Presidente Di quel carisma Vicino Ovviamente c'era Una differenza Generazionale Però Crediamo che Tra le quattro mura Voi uscivate Soltanto con una voce E questo era Era importante Agli occhi Dell'opinione pubblica No? Sì Io non Non la giudico Una difficoltà Per me è stata Una fortuna Poter avere un uomo Sì certo Dal carisma Come mio suocero Dalle capacità E dalle Intuizioni Intuizioni anche Non solo Sportive Ma anche Imprenditoriali Devo dire Ma imprenditoriali Sicuramente di più Quindi Per me è stata Una fortuna Certo Vivevamo due situazioni Completamente diverse Perché venivamo da generazioni Completamente diverse Quindi In alcune occasioni Non Erano condivisi I pensieri miei Con quelli di mio suocero E viceversa Ma Alla fine Nel momento in cui Si doveva decidere Prendere una linea Quella linea Passava Si portava Fino alla morte A prescindere Che la linea Era Dettata Da mio suocero Che la linea Era suggerita Da me Insomma Questo Mi pare Che è stato Poi quello Che si è verificato Nel corso Di tutti questi anni Vorrei sentire anche Gli altri amici Allora Partiamo da te Nella Che hai seguito Passo passo Il comendatore Tutta Tutta la fila Cominciando Quanto rimpiange Quel periodo Il periodo è stato bello Con quelle belle promozioni Con quella Quella cosa Familiarità Tutto che c'era Nel mondo del calcio E' stato veramente Tu in quel periodo Litigavi anche con gli ultra Che contestavano Perché contestavano Mi sono presa anche due Mi sono presa anche due Treni di stricioni Se ti ricordi Con tutte le parolacce Che si possano dire Una donna Però insomma Sono passati Quasi 25 anni Però io sto ancora qui E chi l'ha scritta E chi l'ha fatto fare Scomparso completamente Perciò Bisogna essere tenaci Bisogna andare avanti Bisogna crederci Noi come nel Pescara Noi ci crediamo E rimbiangiamo Nei grandi uomini Che abbiamo avuto La cosa Cominciando ai marinelli Per andare Proprio Per fare la storia Poi nei nostri locali Sibiglia Che ci scordiamo Quando hanno fatto Il comune Che è stato Che è fatto spostare L'azienda Perché non è stato Una parentese È stata una storia lunga Di 18 anni Quindi Poi anche a livello tecnico Loro hanno portato Dei calciatori straordinari Qui a Pescara Junior Zii Francesco Tu sei troppo amico Per poter Eventualmente Ti volevo far criticare Ma come fai Tu a criticare Non l'hai mai fatto Nei tempi Passare Abbiamo avuto Abbiamo avuto No prima riflettevo Che lui Eccolo Il caro Comandatore Sibile Ai microfoni Di Mimmo Logozzo Ricordate Mimmo Logozzo È capo Del TG Sono immagini Di un'era Di un'era fa Di una vita fa No ti chiedo Ecco dall'esterno In cosa sbagliava A Pescara Nel valutare L'operato Di questa società Secondo me L'errore principale Intanto volevo Sottolineare Così Facciamo una riflessione Prima quando Si interveno Tu Antonio Nel primo intervento Ha parlato un paio di volte No La solidità finanziaria Però poi c'erano Le retrocessioni Se in quel momento Uno Si è sintonizzato Dice Ma questo sono Le retrocessi Sempre Mentre ci sono anche Tanti Tanti successi Che lui Intelligentemente Non ha ricordato Perché si ricordano tutti Secondo me Il tutto Nasceva da Un rapporto Di Sbagliato Certamente Ma di amore Non amore Odio Perché l'odio È una cosa Troppo profonda Per scomodata Per scomodarla Su queste cose Un rapporto di amore E poca Sopportazione Tra una parte Della tifuseria E il Presidente Sibiglia Perché poi Le critiche Piovute Su Oliverio Oliverio era visto Come L'astro Nascente Come Il futuro Sicuro Del Pescara Per una vita Forse E le critiche Sono arrivate Solo Alla fine E siccome È stato un periodo Molto lungo Se non c'è Nel calcio Non è la vita Che ti porta Ad amare O ad avere rispetto E grandi considerazioni Per un amico Per tutta la vita Senza scomodare Gli affetti Familiari Nel calcio È diverso Nel calcio Ci sono i risultati Che condono E in un certo periodo Si era rotto Qualcosa Il feeling E tutte quelle critiche Che poi la storia Ha detto Che erano ingiuste Perché poi Tutti quelli Quando molti si chiedono Perché Anche Oliverio Non ha proseguito Oliverio ha spesso Spiegato Che è stata una forma Di rispetto Soprattutto verso Il comandatore È logico Quella era facilmente Era la cosa più scontata E naturale Che poteva essere Io ho la fortuna Oggi di essere amico suo E ho avuto la fortuna Di conoscerlo Con il calcio Io ho sempre capito Che Intuito Ecco diciamo Forse In modo più esatto Che lui non sarebbe Ma rimasto nel calcio Senza il Comandatore Sibiglia Proprio per una forma Di rispetto E anche se lo avesse Voluto fare Magari Spinto da qualche Affetto Familiare Spinto da qualche Amico In quella situazione Non l'avrebbe certamente Fatto Così come non l'ha fatto Ripeto ma poi È davanti agli occhi Di tutti È la storia poi Che ha rivalutato Questi personaggi Ci ha messo in un concesso Che ci servivano Certi eventi negativi Per apprezzare Quello che avevano fatto Per tanti anni Sibiglio Oliveri E poi Ovviamente la società Non l'avreste data Nelle mani di Dante Paterra Oppure Qualcosa non ha funzionato Nella gestione successiva Diciamo è stato l'ultimo Non litigio Insomma Confronto L'ultimo confronto Non Non condivisibile Da entrambi Perché poi uno diceva una cosa Un'altra Cosa che succedono Nella normalità Onestamente Ma non per la persona E la figura Di Dante Paterra C'erano poche condizioni Di certezza Purtroppo Su quella Su quella gestione E abbiamo fatto Tanto carte in vantaggio Sul campo dello Spezia E abbiamo fatto Forse una gestione Un po' troppo affrettata Così come Tante altre decisioni Prese nel passato Hanno visto Delle decisioni Un po' Troppo affrettate Cioè Ci mancava forse Quell'attimo Di riflessione In più In tante circostanze Che avrebbe forse Aiutato E sviluppato Eventi completamente diversi E' anche difficile Mantenere la lucidità Per tanti anni Poi quelli erano Veramente A stagioni Oventi E' chiaro E' chiaro Che col senno del poi Certo E' facile E' facile Giudicare Bisognerebbe Contestualizzare Quel momento Per determinate decisioni Iaconine Testimone Nel senso che E' stato Con noi Fino all'ultimo giorno E poi ha proseguito Nel suo incarico Con la nuova società Ma ha vissuto Questi momenti Di Decisioni Decisioni diverse Per tempi E modalità Un po' diverse Devo dire Mi viene da pensare Che Oliveri Purtroppo Non c'è più Il comandatore Sibiglia Antonio Oliveri E' l'esempio Vivente Di Come bisogna Apprezzare Tenersi Tenersi Ben stretti Quando faccio Queste affermazioni Ci sono amici Che mi dicono Che sono diventato Troppo buono Tenero Morbido Anziano Anziano Passano gli anni Per tutti Sono passati Tanti anni Passano per tutti Per me può darsi Che visivamente Passano di più Ma al di là Delle battute Tenersi stretti E capire Gli sforzi Che fanno Gli attuali Dirigenti Non per questo Se Prendono Lucciole Per l'anterna Insomma Se c'è una stagione Un po' sofferta Come c'è stata Strana L'anno scorso Allora tu la critica Non la devi fare Però un conto E criticare Perché i fatti Non credo Che sotto questo aspetto La lezione sia servita Non parlo dell'interambiente Brava Io per quello Lo ripeto Poi che dall'altra parte Qualcuno possa dire Questo stronzo Che sta a dire O di Francesca E così A me non me ne frega niente E la dimostrazione Vivente Perché poi Quando loro sono andati via E successo Tutto quello che è successo E quella retrocessione Di due anni fa Dalla A alla B Alcuni anni fa Sarebbe stata Trattata diversamente Quella di due anni fa Ma non c'è paragone A livello di In altri tempi E successo Che fossero Sotto questo aspetto No Volevo chiederti In quel periodo Sono iniziati i veri guai Per la società È un bene Io ricordo proprio Le trasmissioni Con i titoli Più disparati Dove eravamo diventati Tutti commercialisti Arrivavano gli aerei Arrivavano gli arabi E veramente Furono Anni davvero bui Io mi sono poi Sempre chiesto E visto che c'è qua Antonio Ma lui ovviamente Sarà molto diplomatico Ma se fosse stato Il commendatore Sibili A fare un passo indietro E fosse stato lui A creare il ricambio Generazionale E quindi a creare le condizioni Per un avvicendamento Con Antonio Quindi questo rispetto Di Antonio Oliveri Derivava dalla presenza Continua del commendatore Se fosse stato il commendatore Lui A dire Io ho un genero bravo E a questo punto O magari In un pranzo domenicale Questo potrebbe anche essere successo E noi non lo sappiamo Perché magari la famiglia Si è ritrovata E si sono create queste condizioni Questa curiosità L'ho sempre avuta E visto che c'è Antonio Scusami Non voglio rubarti Ma tu sei anche giornalista Ricordiamo Ma forse oggi Avremo un'altra storia Del pescario Perché avremo un presidente Giovane Antonio Insomma Chissà Questo Questo non lo so Forse è stato un giorno Di una domenica A pranzo Leviamo questo dubbio A Mace Non l'avrei fatto comunque Nel senso che Il mio suocero Non tutti lo hanno capito Che amore aveva nei confronti Del pescara calcio Cioè Per mio suocero è diventata Una malattia Una malattia Sì Sì Quando abbiamo lasciato la società Non c'era giorno Che non leggeva le notizie Non si informava Mentre io Ho alzato un muro In quel momento Per distaccarmi Proprio per scollegarmi Da quello che poteva essere Il susseguirsi Delle attività sportive Della pescara Perché c'era la necessità Proprio di Di allontanarsi Lui questo non l'ha fatto Non l'ha fatto perché aveva un amore Così Forte nei confronti Di questa città Nei confronti di questa Di questa squadra Di questa società Che un gesto del genere Non l'avrebbe mai fatto Ma per il troppo amore Non Per la possibile rivalità Per l'amore O per la competizione Che ci poteva essere Perché Per me non c'è mai stata competizione Per me c'è stata sempre Ogni attimo La necessità E la possibilità Di imparare Da un uomo Con tanta esperienza Quelli che potevano essere Le decisioni Il gesto Le considerazioni E ho sempre salvaguardato Il fatto che era Il nonno dei miei figli Quindi In primo piano C'era solo Esclusivamente Quel pensiero Perché mai E poi mai Avrei potuto Fare qualsiasi Cosa O decidere Qualsiasi cosa Mettendo Non a rischio Insomma Mettendo In difficoltà Il rapporto Che ci poteva essere E comunque Che idee vi siete fatti Sui vostri Dirigenti Che si sono Poi Alternati Su quella poltrona Cioè Vabbè Paterna Era questo Poi Il gruppo Pincione Il gruppo Soglia Non miniamo In questo periodo Io farei un salto E arriverei ad oggi Facciamo sto salto Per poter via Arriverei ad oggi Perché sarebbe Facciamo sto salto Arriviamo Agli attuali Per carità Troppo facile Inferire Perché Io arriverei ad oggi E oggi Nonostante Che poi di quella Accordata Oliveri si interessò Anche se In maniera Ma io ero Di quelli che doveva Fa parte di quella Accordata Poi M'allontanai M'allontanai Per Per una decisione Propria De Olinzo Ma ero Diciamo Non dico L'idea Partita da Antone Oliveri Ma insomma L'idea è nata Pranzando Con alcuni amici Che forse ancora oggi Fanno parte Della società Sono tutti personaggi Che conosce Assolutamente Io oggi Lo diceva Francesco Prima Io farei un plauso A questa società Nel senso che Oggi non è facile Fare calcio Bisogna Anche qui Contestualizzare I momenti Che stiamo vivendo Del paese Ma non solo Del paese Italia Del mondo In generale E oggi fare calcio Con un calcio Che non è cambiato Perché la cosa È più brutta Guardate Ve lo dico E lo dico Da uomo Che mai sta Al di fuori Del calcio Il calcio è rimasto Indietro Di vent'anni Il calcio Speriamo Con la nuova presidenza E la federazione Si parla di queste riforme Però sarà difficile Partano queste benedette riforme E risistemino Il mondo del calcio Perché il mondo del calcio Che attualmente c'è È un mondo Imperfetto Ma completamente Imperfetto Manca di Basi Manca di Fondamenta Importanti Per poter fare calcio Per poter mantenere Il calcio In ogni singola città Che poi La città Possa essere Pescara O Milano O Torino Però Manca Di quelle riforme Necessarie E fondamentali Secondo me Per poter Fare calcio In prospettiva Non fare calcio Di anno in anno Perché qua stiamo facendo calcio Di anno in anno Ecco Io colloco l'occasione Perché qui abbiamo Un agente FIFA Come Carlo Di Renzo E molte volte Anche la vostra categoria Viene chiamata in causa No Perché Criticata Viene critica Io ho usato Un termine Più leggero Ecco Cosa c'è Da correggere Nella vostra categoria Nel rapporto con le società Con i giocatori Perché molti allenatori Vengono condizionati Spesso Dai procuratori E' vero questo Ovviamente Non è Il caso Di Renzo O perlomeno Non è un discorso Che faccio Per Di Renzo Ma può essere Questa una difficoltà Io penso che Innanzitutto Bisogna conoscere la categoria Per dire questo Nel senso che La prima cosa Che bisognerebbe fare È quella di regolarizzare Il rapporto Tra gli agenti E la federazione Perché Ad oggi Gli agenti Devono Stare alle regole Della federazione Però Non possono Usufruire Di nessun Vantaggio Della federazione La verità È proprio questa Cioè oggi Se un giocatore Firma un contratto E ha un contenzioso Con una società La federazione Interviene E le società Devono garantire A noi Non ci garantisce Niente nessuno Nessuno Dalla federazione Fino ad arrivare La FIFA Noi siamo Dei liberi Professionisti Che ci mettiamo In macchina Affrontiamo spese Tutto ciò È tutto alleatorio È tutto da verificare Poi è anche vero Che ci sono degli agenti Che hanno una forza Calcistica Importante Che riescono Ad imporre A qualche società Però io penso Che il presidente È qui presente Io penso Che lui Non abbia mai preso Un giocatore Perché è stato Imposto da un agente Magari Ha più fiducia Di qualche agente A differenza di altri Perché magari Quell'agente Gli ha fatto In passato Gli ha dato Sempre dei giocatori Giusti Però la verità È che la prima cosa Che bisogna fare È regolare il rapporto Tra gli agenti E la federazione Perché senza di questo Non si può E qui rientriamo sempre Nel discorso Delle riforme Che dovrebbero Però molte società Ora si stanno Adeguando O stanno pensando Di adeguarsi Con le strutture Con gli impianti Di proprietà Con il rafforzamento Dei settori giovanili Sono queste Probabilmente Le prime mosse Per salvaguardare I club No Luigi Sì Senz'altro Leggevo questa notizia Veramente sconcertante Quindi penso Che poi le riforme A parte che l'Italia È un paese Che ha bisogno di riforme Sotto tutti gli aspetti Non solo quello del calcio Quindi È l'argomento Di tutti i giorni Quelle sono ancora più complicate Un notiziario Ma stavo pensando Che le riforme Servono anche a livello Internazionale Ma ci sembra normale Che una squadra Come Real Madrid Che ha vinto La Coppa dei Campioni Abbia 650 milioni di euro Di debiti È facile così Vincere la Coppa dei Campioni È facile così Affrontare La Champions League Con i grandi campioni Certo Il campionato finanziario Le dinamiche Non sono solo italiane Sono internazionali Non è più possibile Allora questo Benedetto Fair Play Di cui si parla Da tanti anni Fair Play amministrativo È anche la società Che è il maggior fatturato Al mondo E ho capito Ma 650 milioni di euro Di debiti Che sarebbero Praticamente Ammortizzabili In 20 anni Attraverso 500 milioni di euro Che deriveranno Dal cambiare La storia Di una città E di un Di un tempio Del calcio mondiale Che non si chiamerà Più Santiago Bernabeu Ma si chiama Abu Dhabi Stadium Cioè Sono cose A cui bisogna mettere mano A cui va messo mano Da parte dell'UEFA Che consente comunque Una società gloriosa Con una grande storia Ma di partecipare A una Coppa dei Campioni Ma come si può pensare Che le squadre italiane Siano competitive A livello internazionale E allo stesso modo Quello che diceva lui Cioè gli anni In cui lui era A fianco al commentatore Sibilia C'erano quelle storture Ma che continuano Ad esserci parzialmente Ancora oggi Forse in minor Quantitativo Minor parte Rispetto ad allora Ma ci sono delle cose Che vanno corrette È troppo facile Fare calcio Sperperando i soldi Olivieri Ai tempi vostri Però Pescara A livello imprenditoriale Non rispondeva Granché Ai vostri appelli Cosa che invece È avvenuto In un secondo momento Proprio con l'ingresso Di questa cordata Inizialmente composta Da De Cecco Dalla Caldora E da Sebastiani Si è mai chiesto Perché È successo questo In un secondo momento E non quando C'eravate anche voi Gli anni probabilmente Fanno maturare Poi nelle decisioni Le persone Diciamo che noi Per quanto In determinati anni Abbiamo fatto E chiesto Anche aiuto Alle amministrazioni Nel cercare di allargare La nostra base sociale Devo dire Non c'è stato Questo Questo interessamento Da parte L'imprenditoria pescaresi Probabilmente L'imprenditoria pescaresi In quel momento Non era pronta Non era matura O si fidava di voi Quindi Oppure Tanto ci sono loro Sì Vabbè Diciamo che noi Non ha Cioè Accettavamo di buon grado L'ingresso Di nuovi imprenditori Di nuova gente Che voleva dare l'infa E il lustro A questa società Però Questo evento Non c'è stato Io mi ricordo I primi anni Quando Quando entrò il mio suocero Io ancora non ero in società Anche se vivevo Dall'esterno Le questioni societarie C'era una società Un po' allargata Lì Poi Si restrinte Subito Sta società L'ammorbidente Non fu usato Proprio per niente In quel lavaggio Perché Da cinque soci Sei soci Che rimase poi Solo No ma poi C'è anche il passaggio Con i fratelli fedeli Poi ci fu l'ingresso Poi ci fu l'ingresso di Elena Fratelli fedeli Poi arrivai io A sostituire All'epoca Se non sbaglio Proprio i fratelli fedeli Quindi Insomma L'ingresso Al quale ti riferivi tu Della cordata Che poi sta garantendo A calcio Partendo da De Cecco A Caldora E Sebastiani Poi lì Anche negli ultimi anni Ci sono stati vari avvicendamenti Evidentemente La paura di morire Deve aver spinto Qualcuno A spingere alle spalle Quest'imprenditore Ad entrare Io non faccio Nomi Perché non li so Se sapessi I nomi Sapessi fatti Li direi Tranquilamente Di certo E' stata un po' Tutta Pescara Che ha avuto paura Di finire Lì stava per scomparire Quindi per quello Il fallimento E' stato quello Che ha aperto tutto Noi eravamo considerata Una società Anomala Nel senso Che eravamo due persone Di famiglia Quindi non eravamo due soci Noi eravamo due figure Che gestivano la società Ma eravamo visti In un'unica persona Poi alla fine L'inserimento Di un terzo socio Spaventava molte volte L'imprenditore Anche l'autorità Del commentatore Forse E' anche Ritenuto una società forte Quindi forse Molti pensavano Ma tanto che entro a fare Loro sono già forti Non hanno bisogno Cioè la comparsa Forse non piaceva Ai più piccoli E' un sistema di società Diversa Sì sì Evidentemente poi Come ha detto lui Forse sono maturati i temi Ma ripeto Secondo me Tutto è avvenuto Perché Stava per finire Il calcio Stava per finire Il calcio C'è Pescara Quindi forse La telefonata Dell'amministratore Del politico Del sindaco Del presidente Di chiunque Esso sia A determinati I brindori Che poi sono entrati Magari c'è stato Io non lo so Io non credo Che sia stato questo Il movente Io credo Che ci sia stato Un anche Il movente E' stata la paura Di finire Dopo il fallimento Di personaggi Di personaggi di Pescara Che in qualche modo Hanno capito Quello che dicevi tu Cioè che il barattolo Era vicino Che Pescara Rischiava l'estinzione O quantomeno Un oblio Nel mondo del calcio E quindi Sono scesi in campo E bisogna essergli grati Io non credo Che la politica Lì abbia fatto Anche perché Forse una volta Non penso di sbagliare Anche perché una volta La politica Era in grado Anche di garantire A livello di sollecitazione A livello di Immagini al tribunale Dove ne succedeva Un po' di tutto Il Pescara Che tornava I pescaresi Poi gli stessi dirigenti Si sono alternati Perché non c'è più La caldora Non c'è più Vabbè ma io credo Che sia Che sia Nel geologico Più che Ecco Più che fisiologico Nel gioco Delle parti E nella cosa Ma naturale Di situazioni Del genere Perché intanto Far andare d'accordo 4, 5, 6, 7 persone Quando più Si vogliono stimare Quando più Vogliono essere Amiche Quando più Vogliono essere Coinvolte anche Oltre il calcio Non è facile Far andare D'accordo Quindi Ma fa una selezione Cioè Molti sono Tornati Dove Stavano prima Altri sono rimasti Altri sono entrati E proprio per quel discorso Che ti stavo facendo adesso La vita societaria Non è facile No No In effetti Io Lo accennavo prima Bisogna fare un plauso All'attuale dirigenza Che ha mantenuto E sta mantenendo La società Devo dire Insomma Con grossi sacrifici Dal mio punto di vista Almeno Da quello che posso vedere Giudicare dall'esterno Quindi Poi è vero I risultati Non vengono Le problematiche La partita vinta La partita persa Queste sono Se vogliamo Importanti Ma Nella Importanza Del mantenimento Della società E della categoria Alla fine Forse sono dettagli Sono dettagli Però il tifoso Vuole vedere Solo se la palla Entra in rete No Alla fine Quello vi condiziona Perché l'umore Dell'ambiente Si ripercuote Sulle strategie Quello condiziona Ma non dovrebbe Far decidere Cioè Le decisioni Devono venire Per altre motivazioni Molto più importanti E molto più distaccate Dal momento Sportivo Limitato Al risultato Però sotto questo aspetto Lei era diverso Al comandatore Che probabilmente Si faceva Non condizionare Cercava di accontentare Un po' anche La tifoseria Quindi Doveva pensare Al bilancio Doveva pensare Accontentare il tifoso Che rivoleva Galeone Tutte queste storie Ho sposato la filosofia Di una brutta verità Ma sempre la verità Cioè Invece di una bella bugia Che poi Dopo 15 giorni 20 giorni Mi ritornava indietro Senza nessuna giustificazione La brutta verità Magari non accettata In quel momento Dal tifoso Ma era quello Che si poteva fare E quello Che si poteva mantenere Perché alla fine Almeno c'era la coerenza Di dire le cose Per come stava Certo Bene Abbiamo fatto un po' di revival Adesso andiamo in pubblicità E parliamo del presente Anche perché domani si gioca Questo campionato di Serie B Sempre Lunghissimo Sì Soltanto 4 giornate di campionato Ma qui già si fanno I primi bilanci Già Si parla Di ultime spiagge Quest'ultima spiaggia A Pescara Da tempo È stata consumata Andiamo in pubblicità E poi torneremo in studio A tra poco Epica Un poema di tecnologia avanzata Per la tua casa Ceramiche Idrotermosanitari Condizionamento Arredamento Materiali edili Epica Il nostro mito Sei tu Per venire incontro Alle tue esigenze A Pescara In zona aeroporto Via Fosso Cavone Nel nuovo showroom Di oltre 1000 metri quadrati Epica ti aspetta Con orario continuato Dalle 9 alle 19 Dal lunedì Al sabato Nel punto vendita di Chieti Abbiamo ampliato La sala esposizione Con porte e finestre Epica Cambielli Group Leader in Italia Con 180 filiali Tutte le strade Portano a Epica Le linee e le tendenze Mutano con il passare del tempo Cogliere i cambiamenti Soddisfare le nuove esigenze Sono le qualità che fanno Di Paolo Arredamenti Il riferimento nel mondo Dell'interior design A Montesilvano Di Paolo Arredamenti È esposizione di elementi d'arredo È punto vendita ufficiale Poltrona Frau È un mondo dedicato Alla comodità E alla qualità Che solo un grande marchio Può darti Di Paolo Arredamenti Ti aspetta a Bellante In via Sant'Arcangelo 120 A Teramo In via De Gasperi 45 E a Montesilvano In corso Umberto 590 Salve Sono Emilio De Florentis L'impresa funebre Della nostra famiglia Nasce nel 1945 In una piccola bottega artigiana Nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio E di suo padre Emilio Da quel momento Da 68 anni La tradizione prosegue E dal 1995 Io e mio padre Alfredo Abbiamo aperto Una nostra azienda Che a Pescara Ha sede in via Spaventa Nella zona Dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085 66 021 Notti d'oro Nuovo punto vendita a Montesilvano In corso Umberto 271 Con oltre 1000 metri quadri Di sale espositive Negozio specializzato In biancheria per la casa Per la tavola Spugne Pigiameria E vestaglieria Le più belle collezioni Di Blu Marine Cavalli Fazzini Zucchi Gabel Caleppi Più mini downstep Per le occasioni più eleganti E le necessità quotidiane Assortimento a prezzi da ingrosso Ampia scelta di letti e materassi Notti d'oro Corso Umberto 271 a Montesilvano Biancheria e materassi Per sognare Meravigliosa creatura Un bacio lento Meravigliosa paura Di averti accanto All'improvviso Tu scendi nel paradiso Vuoi l'amore Meraviglioso La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta Da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti Consulenze assicurative e finanziarie Risarcimento danni di qualsiasi genere DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore Con filiali a Rimini e Brescia La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti Sta nascendo il Residence Magnolia Di fronte al mare appartamenti prestigiosi, classe A energetica E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore Troverai l'Isola di Z Feste di compleanno, feste di laurea Per ricordare i tuoi 18 anni Scegli l'Isola di Z Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines Azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni Trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno Consulta il sito www.baltour.it E compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro Baltour, Sena ed Eurolines Ti augurano un buon viaggio Grazie a tutti 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 Eccoci tornati in studio Allora ci colleghiamo subito in regia con Andrea Costantini Andrea sono arrivati i primi sms sms intanto ti dico che il Carpi come avete visto è in vantaggio sul campo dello Spezia 1-0, gran gol al 46esimo di Bianco, si gioca anche in Lega Pro, un posticipo della quinta giornata del Girone B, Sant'Arcangelo sta vincendo sul campo del San Marino per 1-0, prego in regia Maurizio D'Aguidi di mandare in onda alcuni sms che sono giunti, allora buonasera vorrei sapere come vedete voi l'operazione di mercato, Capuano perde il Fabro, poi rispedito al Cagliari e l'acquisto di Pesoli andiamo avanti ancora aspetta facciamo così Andrea, rispondiamo una volta facciamo rispondere Carlo Di Renzo io penso che è un'operazione giusta nel senso che Capuano meritava questa chance di andare a a Cagliari c'era un allenatore che lo stimava quindi il Pescara ha agevolato l'operazione del Fabro è venuto qui magari convinto di essere titolare inamovibile non giocando in atice, vado in via a giocare invece si è accorto che poi gli spazi erano un po' chiusi e quindi alla fine si è certo che ora vedendo prestazione di Pesoli è criticato, uno rimpiange come sempre come sempre la faccio subito la domanda o dopo? dopo, sentiamo un altro messaggio su Pesoli voglio sapere se è arrivato preparato se è il gemello del Pesoli del quale si parlava perché potrebbe essere sicuro che qui è arrivato il gemello che fa il tubista e quindi il Pesoli che stiamo vedendo tutto sembra fuorché il giocatore che si conosce Andrea che dava certe garanzie abbiamo intravisto prima il secondo messaggio per Antonio Riveri il momento più bello e quello più brutto della sua esperienza nel Pescara momento più bello è il momento più brutto beh, il momento più bello sono quelli delle promozioni sicuramente il più brutto è la cessione della Pescara Calcio quello è in dubbio ok, ancora un altro se domani non si vince bisogna sonerare Baroni che ne pensate? Luigi Alvore Mascia ci siamo lasciati prima della pubblicità sul fatto dell'ultima spiaggia io non sono d'accordo poi non voglio anticipare i temi della seconda parte della trasmissione relativi all'attualità e quindi a questo Pescara non sono d'accordo perché ritengo Baroni un ottimo allenatore perché ritengo che siano state fatte bene le cose in questo mercato estivo e anche nella coda del mercato estivo nella parte finale ritengo che il Pescara ha bisogno di tempo e quindi ha bisogno di tempo Baroni dobbiamo stare tranquilli sereni e aspettare come hanno aspettato a Palermo lo scorso anno e poi Palermo esploso come stanno aspettando Francesco non è d'accordo sono d'accordo però Baroni dovrebbe già dare almeno 743 risposte a cominciare da quella buffonata di aprire ai tifosi solo il lunedì in situazioni del genere si crea calore si si crea calore partecipazione complicità simpatie tante volte nel calcio chiedo a Antonio Oliveri conferma se se dico una fessile tante volte se sei simpatico se c'è partecipazione si ma se c'è complicità sei portato anche ad aspettare un momentino di più pure Cosmi era simpatico pure Cosmi e infatti e infatti Cosmi che non ci ha dato nulla e nessuno gli ha detto e appunto si può darsi che lui abbia bisogno un po' di concentrazione vuole tenere un pochino la squadra adesso parli per gli allenamenti a porte chiuse eh parli per gli allenamenti a porte chiuse ma adesso sono stati aperti sono stati aperti solo i lunedì mi hanno detto due giorni alla settimana ah due alla settimana si deve pure leggiamo un altro messaggio poi Enrico prima di passare da Valerio per forzapescara.com ti dico qualcosa sui convocati di domani non facciamo altro che prendere gol ma perché Baroni non prova la difesa a tre si chiede questo telespettatore e comunque Enrico ti aggiungo che nella lista dei convocati di Ramata poche ore fa dal tecnico Baroni non c'è il centrocampista Appel Pires sembra per scelta tecnica e se riusciamo qui a vedere i centrocampisti convocati sono Guana Lazzari Nilsen Biarnason e il giovane Selasi scelta tecnica sì non ci sono Salamon e Magnero mentre si rivede tra i convocati Gianluca Caprari che però dovrebbe partire dalla panchina a te allora per la difesa tre Carlo Di Renzo Penso che lui sta iniziando dall'inizio dell'anno per lavorare con la difesa a quattro anche l'anno scorso giocava in quel modo probabilmente non so credo è chiaro che alla luce degli errori fatti uno dice perché non prova la difesa a tre dobbiamo avere anche gli uomini poi per i due terzini insomma abbiamo i terzini per giocare a tre sono i terzini a tre davanti abbiamo i giocatori poi che sono bravi a fare tutte e due le fasi secondo me è prematuro questo l'unica cosa che mi meraviglia ho sentito la conferenza stampa di oggi dove lui dice che principalmente è un atteggiamento mentale della squadra quello di prendere tutti questi colpi e se un 94 un 95 un 96 sbaglia quello che ha sbagliato Pesoli gli viene detto che non è pronto lo sbaglia Pesoli si dice un atteggiamento mentale io penso che invece bisognerebbe trovare allora facciamo una cosa vogliamo andare a sentire subito qualche passo della conferenza stampa di oggi di Baroni così ci regoliamo anche ti rende un po' la situazione più chiara che ha fatto lui è perfetta andiamo a sentire Baroni dopo torniamo dalla relazione di Forza Pescara quell'altro è mentale sì è mentale io voglio voglio solo dire questo no e ripeto lo dico veramente a gran voce perché io sono il responsabile di questa squadra se ci deve essere una critica mossa deve essere fatta verso di me non verso i miei ragazzi in campo si sbaglia si può sbagliare in questo momento c'è in questo momento c'è necessità di un gruppo che cresca passeremo da degli errori questo lo so però in questo momento io voglio rafforzare la posizione di tutti i ragazzi perché siamo in costruzione abbiamo bisogno di non perdere nessuno io credo che nella costruzione questi percorsi ci possono stare adesso aspetta a noi dobbiamo essere forti ora è un momento importante dobbiamo dimostrare di essere forti io sono fiducioso per natura lo sapete e credo che certe situazioni le eliminiamo è chiaro che anche noi come tutte le squadre come tutti gli uomini abbiamo bisogno di fiducia però ce la dobbiamo andare a prendere ce la dobbiamo andare a prendere con una partita di grandissima intensità mentale non possiamo aspettare che ci venga data da chissà cosa ma in Latina mi aspetto una squadra tosta una squadra costruita con dei criteri dove ci sono giocatori di grande esperienza ci sono dei giovani talentuosi ma ripeto l'abbiamo visto oramai abbiamo l'esempio di queste quattro gare io guardo in Latina con grandissimo rispetto perché l'allenatore è bravo insomma c'è un gruppo che ha sfiorato la Serie A a 45 minuti era in Serie A ma noi dobbiamo guardare a casa nostra se guardiamo gli altri non costruiamo niente dobbiamo guardare molto a casa nostra finalmente Baroni sorride anche faccio un'anticipazione domani vinciamo contro i latini ha sorriso tre volte evento storico intensità mentale Oliveri ascoltavo un attimo questi brevi cenni di conferenza stampa io reputo Baroni un buon allenatore però mi è parso di intravedere un atteggiamento da già troppo nervoso troppo troppo nella difensiva nel senso che sta sta già forse aggredendo per non essere aggredito forse in questo momento ci vorrebbe un attimo di tranquillità di serenità di parlare poco forse per niente di cercare di trovare all'interno quelli che sono i giusti equilibri che probabilmente questa squadra ha che ancora non è riuscita ad applicare ad attuare ma penso che il lavoro debba essere fatto all'interno non debba trasparire oggi all'esterno con un cenno di difficoltà quasi di aggressione nel parlare visto un atteggiamento non lo conosco non lo posso giudicare l'ho sentito televisivamente qualche volta quindi se si giudizio può essere completamente inesatto però l'atteggiamento deve essere forse un po' più tranquillo e forse la società glielo dovrebbe in questo momento dare e rafforzare allora chiedo un po' a tutti la vostra gestione per quanto riguarda gli allenatori gli stessi tecnici hanno pagato molto il dopo Galeone c'è il rischio anzi c'è sicuramente il rischio che molti tecnici adesso stiano pagando il dopo Zeman io ho incontrato una persona non faccio nome subito dopo l'addio di Zeman e sconsigliai ma a livello personale il continuare a voler praticare quel tipo di calcio e quel tipo di mentalità perché lo avevo vissuto sulle mie spalle con l'epoca non solo Galeone ma con l'epoca se vi ricordate degli rossi quando tu hai la fortuna di avere un allenatore che imprime un gioco stupendo con un'intensità fisica e mentale che solo quell'allenatore secondo me riesce a far praticare e a far esprimere a determinati giocatori devi voltare pagina avessi avuto bisogno di un fascetti cioè un calcio all'antica ma un calcio all'antica che in quel momento serve per staccare completamente i due momenti calcistici che sono completamente diversi si crea sempre il paragone c'è il paragone e nel calcio determinati allenatori non sono copiabili cioè non non possono essere replicati replicati allora Di Renzo poi Masch Francesco io penso che l'allenatore in questo momento la piazza lo sta aiutando perché mentre all'inizio aveva presa con un certo scetticismo adesso dopo le prime due o tre partite ha avuto tanti complimenti anche dopo l'ultima partita se noi andiamo a vedere l'ultima partita Pesca nel primo tempo sembra una squadra di due categorie superiori la squadra comunque ha giocato bene in una squadra che comunque ha imprezzo il proprio gioco ma io non sto non sto criticando non stiamo giudicando adesso il lavoro di Barone è troppo prematuro giudicare il lavoro di un allenatore in questo momento io mi permetto di fare una mia analisi personale da esperienze passate in questo momento bisogna stare zitti e lavorare cioè trovare gli equilibri all'interno creando una barriera protettiva nei confronti del gruppo dell'allenatore e questo lo deve fare la società lo deve fare il presidente se non lo fa il presidente lo deve fare il direttore sportivo cioè deve essere il gruppo all'interno che non ha delle funzioni se vogliamo tecniche dirette nei confronti dei giocatori di proteggere questo gruppo e cercare di fare lavorare al meglio cercando di stare questo perché lo scorso anno ad esempio è stato fatto con Marino con Pasquale Marino però alla lunga sono semplici io penso che il carattere di Barone rispetto al carattere di Marino sia completamente diverso sia completamente diverso io penso che Barone se è protetto in questo momento in questa fase possa secondo me portare a compimento quello che è il suo lavoro e quelli che sono i suoi intenti calcistici mi piaceva la domanda che hai fatto cioè se dopo Zeman viene pagato in qualche misura dagli allenatori che si sono succeduti io credo che Zeman a differenza di Galeone che aveva creato anche un'empatia con l'ambiente oltre ad aver scritto in maniera anche ripetuta e reiterata perché poi Galeone ha vissuto più fasi a Pescara e ha scritto la storia del calcio a Pescara Zeman è andato via male da Pescara quello che si può rimpiangere di Zeman è quell'annata straordinaria data da quei tre giocatori ma io non parlo a livello di affettivo parlo di di quanto siano condizionati gli allenatori io penso penso di no da un punto di vista affettivo no non solo per questo motivo anche perché poi Zeman non ha vinto più niente è andato via da Pescara e quindi non mi pare che tra l'altro altrove abbia fatto chissà che cosa per quello si rimpiange quella è stata una una vicenda straordinaria unica forse ripetibile però tu sei bene che allo Stato non c'è una giocata perché ma io non non ho avvertito questo non l'ho avvertito come invece l'avvertì nel dopo Galeone perché uno come Mazzone che insomma è un pezzo di storia e di leggenda del calcio italiano si può piacere o poteva piacere il suo modo di giocare si vendeva sistematicamente i cori che rimpiangevano Galeone non è accaduto con Zeman e non penso che allenatori che sono arrivati dopo Zeman siano stati in qualche modo condizionati negli allenatori gli allenatori poi sono professionisti anzi Baroni poteva pagare in qualche misura il suo trascorso lancianese c'è questa rivalità invece non so chi l'ha detto se di Renzo o Antonio mi pare che Baroni sia stato trattato molto molto bene dalla tifoseria pescarese l'anno scorso a Lanciano giocava con il 4-3-3 quindi non è non è un voler tutti noi riteniamo che sia un ottimo allenatore per la Serie B esatto è solo una casualità che Stroop Bergodi Marino Cosmi e lo stesso Baroni adesso abbiano avuto delle difficoltà poi con differenze di valori tra questi allenatori l'anno della Serie A è un discorso a parte l'anno scorso hai preso Marino che nella sua carriera va giocato anche con il 3-4-3 oltre al 4-3-3 io parlo di difficoltà però oggettive poi ognuno ha una sua storia le difficoltà oggettive onestamente non potevano non condizioni no ecco potevano nascere da un condizionamento dell'ambiente l'ambiente mi sembra che l'anno scorso come giustamente ricordavi tu grande fiducia e grande stima a Marino è inutile che ricordiamo l'accoglienza che gli fu fatta e come la società lo ha aspettato fino alla fine il problema è che purtroppo ogni anno allora secondo me però velocemente Francesco velocemente ripeto 11 o 15 giocatori bravi messi insieme non è detto che facciano una squadra e purtroppo lo stiamo vedendo l'abbiamo visto l'anno scorso e lo stiamo vedendo ancora adesso sperando che diventino squadra bisogna dare tempo a Baroni non possiamo fare dei paragoni gli altri hanno avuto molto tempo a disposizione e probabilmente non lo hanno saputo sfruttare tu invece che pensi? che penso? come dice lui dobbiamo dare tempo all'allenatore dobbiamo cercare secondo me c'è pure cosa fisica perché vedo che un tempo regge la squadra abbiamo visto qui che ha giocato ha detto proprio in conferenza stampa problemi di natura atletica non ce ne sono però ha detto che ci sono dei giocatori di ritardo di condizioni giocatori vediamo che regge però lui ha preso due giocatori per ruolo quindi non è che quasi tutti dello stesso livello tra parisi non è che è stato preso una prima scelta una seconda scelta andiamo dalla redazione di ForzaPescara.com dopo torneremo da Andrea Costantini Valerio allora qual è il pensiero dei tifosi? chiedono qualcosa in particolare? la presenza di Antonio Oliveri ha suscitato scalpore molti rimpiangono la contestazione quel brutto momento dell'addio nel 2004 e adesso la maggior parte di chi si pente chi si schiera a favore chiedono se c'è la possibilità del ritorno di Antonio Oliveri in società nel Pescara e qual è il suo rapporto con l'attuale dirigenza poi ce ne sono anche altre ok allora rispondiamo subito la tua dirigenza ha la massima cordialità sono persone che conosco prima del loro ingresso nel mondo del calcio quindi massimo rispetto massima cordialità e tanta amicizia nei confronti sia di Daniele che di Annascoli sto crescendo il figlio per farlo entrare nel calcio quindi aspettiamo la nuova generazione sul fatto la domanda che viene fatta spesso può rientrare può non rientrare sì non il calcio è una passione che non si cancella per essere onesto lo devo ammettere nel senso che chi ha avuto la fortuna come me di fare per tanti anni calcio e di farlo con passione con e con grandi sacrifici per poi fare calcio comporta anche tanti sacrifici io per 13 anni non ho pranzato e cenato il sabato a casa e la domenica a casa con la famiglia può essere una cosa che può sembrare così stupida insinficante contenta la signora insomma mica tanto stupida e significante però ha il suo peso nell'ambito di una famiglia però è una malattia secondo me che non non va via non va via non va via e appena poco poco c'è la possibilità dello spiraglio intanto credo che intanto credo che vi abbia fatto piacere il memoria a Sibilia che la società dell'angolana ha organizzato ecco c'è questo che probabilmente come il datore Sibilia non è stato ricordato parlo un po' da parte dell'intera città come si dovrebbe o no? Mi fa piacere che ci sia stata questa iniziativa e stavo proprio pensando che è incredibile che in questi anni non sia maturata magari in tutti noi mi faccio mi prendo anche una parte di responsabilità perché sono stato sindaco della città e quindi dalla morte in poi del commentatore che è sicuramente recente però poteva essere anche intrapresa un'iniziativa di questo io colgo l'occasione per ringraziare la società dell'angolana e la sua persona adesso di attuale presenta la dottoressa Corvacchiora che insomma è stato un gesto che noi della famiglia abbiamo apprezzato moltissimo è stato un gesto nobile per una persona che secondo me meritava questo e sicuramente ed altro insomma ad essere onesto e sincero allora Andrea Costantini prima di andare in pubblicità ci sono novità per quanto riguarda quest'anticipo o qualche altro messaggio allora siamo sempre sul 2-0 il Carpi sta vincendo con questo risultato alla Spezia a proposito possiamo vedere la classifica aggiornata con l'eventuale vittoria del Carpi alla Spezia questo è un risultato se vogliamo anche clamoroso ecco il Carpi vabbè c'è ancora da disputare all'intero turno del campionato salirebbe a quota a quota 9 e la Spezia resta a 7 punti Andrea sì nell'elenco dei convocati del Latina lista di ramata dal tecnico Beretta ci sono i 4 ex Biancazzurri il difensore Riccardo Brosco l'attaccante Emiliano Sforzini l'esterno Andrea Rossi e il centrocampista Federico Viviani poi abbiamo altri messaggi quindi chiedo ausilio anche in questo caso a Maurizio da qui possiamo leggere insieme insieme anche da Valerio De Carolis il Pescara ha fatto tanto per prendere scrugli dall'Aquila ottimo atleta e poi non si sa perché è stato rimandato indietro perché si chiede Franco e poi ancora facciamo rispondere a Carlo Di Renzo credo che sia anche l'agente di questo giocatore e niente Pescara l'ha preso perché era un giocatore di un prospetto interessante probabilmente Baroni non l'ha reputato all'altezza della Serie B e l'ha rimandato dall'Aquila quindi anche aveva la stima dell'allenatore giocatore di giocare insomma sì sì è chiaro che noi consigliamo sempre ai giocatori di giocare questo è sicuro un altro messaggio tra l'altro sì aggiungo che ieri Scrulli ha fatto un gran gol per l'Aquila un gol alla Del Piero non proprio da difensore vediamo un altro messaggio segno tutti gli ex Enrico sei il migliore la rete ha fatto un grandissimo acquisto con la tua mitica replay agli ospiti Baroni andrà via forza Pescara sempre Fede Biancazzurra grazie andiamo avanti con i messaggi ancora un altro Appelt chi era costui non fosse stato convocato Fabregas quasi quasi a te Enrico a te che piace Appelt che sia convocato o meno a te che mi piace Appelt e non ho criticato la non convocazione avrà i suoi buoni motivi tecnici tattici come vogliamo dire l'allenatore uno aspetta il campo oppure l'altra volta e ci meravigliamo che il Bologna non gioca Pasquato e è andato a comandare mi mette Guana che va senza nulla togliere che è sempre bene ricordarlo anche se è ridicolo senza nulla togliere quella che è la bravura e la bella carriera la grande carriera di Guana però Guana che va a 3 all'ora a fianco ad Appelt che va a 3,5 o 2,5 e quindi dopo che ho visto la partita uno critica e che se no sicuramente dopo aver visto la partita quello da pensare è questo io mi meraviglio come non si è stato dato per niente spazio a Selasi il ragazzo che l'anno scorso aveva fatto così bene in finale di campionato e con un pro no no è stato sempre tutte le volte è stato convocato prima è passata sottovoce quello che diceva giustamente lui 24 giocatori 2 per ruolo quindi se sono stati presi accettati da Repetto Pavone Sebastiani Annascoli e Baroni significa che vanno più o meno bene tutti e 24 quindi se mi si fa male Giovanni e c'ho Pasquale c'ho Pasquale giochi quindi non mi posso lamentare se manca Giovanni Valerio De Carolis velocemente qualche domanda dal portale ancora una domanda per Antonio Riveri poi approfondiremo anche per tutto quanto lo studio se c'è qualcuno nello specifico che l'ha fatta allontanare dalla cordata di Sebastiani De Cecco quella del diciamo della nuova gestione la domanda facciamola vedere che altrimenti possono pensare che te le sta inventando queste domande no 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 hai il tempo di trovarle intanto Riveri ci risponde no no non c'è stata nessuna persona che mi ha condizionato grazie a Dio mi faccio condizionare poco nelle decisioni anzi forse molte volte è un difetto non certo un pregio però non è stata una decisione mia e personale allora semplifichiamola perché non ha aderito alla cordata ma perché all'inizio vi sono accordata troppo troppo allargata onestamente ne eravamo troppi Valerio ovviamente non ti impazzire vediamo dov'è siamo ora siamo ancora va beh perché ne sono tante facciamo portate che la ritroviamo sì sì allora andiamo in pubblicità e poi ultimi 20 minuti di trasmissione tra poco epica un poema di tecnologia avanzata per la tua casa ceramiche idrotermosanitari condizionamento arredamento materiali edili epica il nostro mito sei tu per venire incontro alle tue esigenze a Pescara e zona aeroporto via Fosso Cavone nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19 dal lunedì al sabato nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre epica Cambielli Group leader in Italia con 180 filiali tutte le strade portano a epica le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo cogliere i cambiamenti soddisfare le nuove esigenze sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design a Montesilbano Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau è un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120 a Teramo in via De Gasperi 45 e a Montesilvano in corso Umberto 590 Salve sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio da quel momento da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085 66 021 Notti d'oro nuovo punto vendita a Montesilvano in corso Umberto 271 con oltre 1000 metri quadri di sale espositive negozio specializzato in biancheria per la casa per la tavola spugne pigiameria e vestaglieria le più belle collezioni di blu marine cavalli fazzini zucchi gabel taleppi più mini downstep per le occasioni più eleganti e le necessità quotidiane assortimento e prezzi da Ingrosso ampia scelta di letti e materassi Notti d'oro corso Umberto 271 a Montesilvano biancheria e materassi per sognare meravigliosa creatura un bacio lento meravigliosa paura di averti accanto all'improvviso tu scendi nel paradiso vuoi un amore meraviglioso la DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo la DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti consulenze assicurative e finanziarie risarcimento danni di qualsiasi genere DZ Insurance Sport a sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia la DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia a Francavilla al Mare via Francesco Paolo Tosti sta nascendo il Residence Magnolia di fronte al mare appartamenti prestigiosi classe A energetica e per divertirti festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z feste di compleanno feste di laurea per ricordare i tuoi 18 anni scegli l'Isola di Z Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane 23 nazioni europee oltre 500 destinazioni trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro Baltour Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio ore 22 e 14 minuti allora Andrea Costantini ci sono novità per l'anticipo Spezia Carpi? No, siamo sempre sul risultato di 0 a 2 mancano 5 minuti più eventuale recupero per ora il Carpi sta tenendo bene il risultato e anzi ha anche sfiorato il terzo gol invece nel posticipo di Lega Pro sempre San Marino 0 Sant'Arcangelo 1 a te a distanza di anni Oliveri la B è sempre la stessa ricca di incognite però quest'anno non c'è una squadra probabilmente che può dare un taglio alle altre cioè non c'è la regina come poteva essere lo scorso anno il Palermo anche se pure il Palermo non era partito bene beh non c'è ma secondo me uscirà fuori uscirà fuori perché il campionato di Serie B poi alla fine tira fuori sempre la squadra che diventa protagonista nel campionato attualmente non si intravede anche se io ho un'ottima mi ha fatto un'ottima impressione vedere giocare il Perugia devo essere sincero ho visto giocare anche il Brescia non male in alcuni frangenti perché ho visto la partita due domeniche fa se non sbaglio di Brescia contro il Livorno sì Brescia-Livorno e non non mi è dispiaciuto il gioco del Brescia può migliorare ma secondo me è una buona squadra comunque queste due partite domani con il Latina e domenica Catania possono dare un indirizzo al campionato o è sempre troppo presto Mascio? Certo che lo danno all'inizio al campionato Baroni si gioca molto io dico che non è l'ultima spiaggia ma insomma domani sera è una di quelle partite si legge la tensione anche nello sguardo nel volto di Baroni è una di quelle partite in casa qui ci si aspetta una riscossa è un'arma a doppio taglio? ma secondo uno che di allenatori ne avrà visti 20-30 probabilmente come Antonio Oliveri forse in quel sorriso c'è anche molta tensione comunque l'ha anche detto Baroni in conferenza stampa ha detto mi vedrete molto più arrabbiato quando vinceremo le partite bisogna dare serenità e se vogliamo può essere una chiave di lettura positiva e può essere sapendo poi che oltretutto andiamo poi dopo qualche giorno a Catania dove ci sono altri problemi ecco per esempio a Catania è una di quelle piazze dove si aspettavano di essere già protagonisti nella prima parte del campionato e invece non lo sono hanno già cambiato l'allenatore secondo me sbagliato mi insegnate tutti e due soprattutto Antonio come ricordavi tu è stato dentro la società per tanti anni quindi ha vissuto situazioni che noi possiamo intuire se vogliamo anche lontanamente ma guardate che ci sono segnali e segnali ossia nessuno penso al di là del fatto che tutti ci auguriamo che domani Pescara venga con il Latina e magari faccia pure il risultato a Catania ma se non dovessero esserci questi risultati però dovessero arrivare dei segnali incoraggianti ossia tu vedi una squadra che di colpo non sbanda con il Cittadella parti male vai sotto sei bravo a recuperare vai in vantaggio stai dominando la partita e di colpo se io vedo una squadra che non becca gol da Polli da Babbei come devo dire così come vuoi sapere qual è il ragionamento che si fa il dirigente in pratica sentiamo ma non solo quei si ma anche ma anche anche l'intero ambiente ossia c'è modo e modo di perdere esatto però in linee di massima se tu vedi una squadra che è lì per poter fare veramente bene ottenere risultati magari il risultato negativo lo accetti diversamente è inconcepibile il pescara in quella condizione Francesco io la vedo in quella condizione speriamo io il bicchiere lo vedo mezzo pieno siccome abbiamo visto in realtà un pescara sempre a due facce esatto a termine c'è chi lo vede mezzo vuoto perché non guarda magari ma io pure lo voglio vedere evidentemente manca qualcosa un cantiere in cui manca qualcosa e lì l'allenatore deve essere bravo posso fare una provocazione? prego sì qui per questo allora lui in conferenza ha parlato degli errori difensivi e della situazione mentale no? sì intensità mentale al posto di visto che oggi si è arrivato a lavorare in maniera quasi scientifica con i computer con si pesa la massa magra la massa grassa la preparazione atletica i millimetri i cronometri frazioni di seconda ma scusa un attimo non è più semplice lavorare solo sulla fase offensiva e magari mettere una persona che lavori sulla situazione mentale visto che qua nel calcio ci sono 100.000 figure visto che in America questa è una figura che esiste da non si sa quanti anni non è meglio mettere un metal coach su un budget annuo di 7, 8, 10 milioni di euro alla fine può darsi che questo può essere la soluzione però i testi ci lavorano probabilmente ma secondo me chi fa quel lavoro sa come deve intervenire Oliveri? io lavorerei sulla fase difensiva soltanto anche devo essere sincero lavorerei molto di più sulla fase difensiva perché quella offensiva quella offensiva devo dire abbiamo visto anche i gol il Pescara li sta facendo insomma deve cercare di farne uno in più e di prenderne uno in meno quindi io lavorerei un po' più mi concentrerei a lavorare un po' più ma è vero che ci sono stati come i non belli si ma è vero che ci sono stati gli infortunati è vero che Ciosic era tornato Zupari Cie che era tornato non c'era stata una partita perché stava con la nazionale ma se sono 5 partite di campionato e ci sono stati 5 formazioni diverse che tu lavori sulla fase difensiva si però mi sembra che la storia ci insegna che dopo 1-2 mesi di campionato se sai a memoria già la formazione di quella squadra guarda caso quella squadra ci sta andando bene allora Nella e lo dice anche la storia del Pescara dopo due anni di sofferenza quest'anno pensavamo di essere un po' più tranquilli l'inizio non è stato promettente purtroppo è così non è stato promettente ma noi speriamo sempre sai che noi siamo sempre vicini cerchiamo sempre di fare e faccio sempre appello a tutta la tifoseria siamo ancora agli inizi se stiamo tutti legati alla squadra tutti siamo coesi i risultati arriveranno perché come dicono tutti gli uomini ci sono l'allenatore abbiamo visto che non è l'ultimo arrivato prima o poi questi risultati devono anche arrivare questa coppia Pavone Repetto se non è una coppia ben assortita Repetto è un grande intenditore di calcio è uno che si è fatto questa esperienza da direttore sportivo lo scorso anno e Pavone ha una storia importante nel calcio italiano mica soltanto doveva venire a trovare Gloria a Pescara e d'altra parte la squadra che è messa su quest'anno dai diciamocelo chiaro tutti pensavamo e pensiamo che sia una squadra di primo ordine il calcio è proprio questa che per il secondo anno consecutivo il Pescara ha indicato dopo le trattative di mercato Francesco che dice dice Francesco 15 giocatori ottimi non fanno una squadra ha ragione è così ma qui è il tecnico che deve essere bravo qua il meno bravo è bravo non so se arrendo lì no non ci sono responsabilità del tecnico ci sono incombenze sul tecnico la responsabilità fa pensare che ci sia la colpa del tecnico io mi aspetto che ci sia la soluzione da parte del tecnico cioè è vero che sono quattro partite ma sono state quattro partite ravvicinate il Pescara è un cantiere sono arrivati quei giocatori all'ultimo momento diceva giustamente di Renzo non c'è un'omogeneità di preparazione insomma sarà un caso che le grandi squadre vengono fuori la distanza è vero è vero che anche molte grandi squadre partono subito alla grande però insegna il Palermo lo scorso anno ma non soltanto il Palermo che occorre tempo per poter dare una fisionomia un'identità a una grande squadra io considero il Pescara una delle grandi della serie B ma Oliveri dopo tanti anni di esperienze insomma un dirigente come si deve comportare se spende al mercato fa una squadra competitiva poi parte male ci riprova il prossimo anno stesso discorso si riparte male cioè altre squadre spendono 100 euro al mercato per modo di dire ma non il tutto non dipende da quanto spendo e come spendo secondo me il progetto che è stato impostato all'interno della struttura societaria insieme al tecnico deve essere quello che è l'obiettivo che poi una società deve portare avanti se il loro progetto è stato impostato con la scelta di questi giocatori secondo me deve avere pazienza la società e aspettare che questi giocatori seppur bravi come dice Francesco diventino una squadra e questo non lo non lo si ha subito sempre così di incanto molte volte bisogna avere anche i tempi giusti le condizioni giuste io la ritengo una squadra di buoni giocatori probabilmente ancora non è una squadra lo deve diventare diamogli tempo per farla diventare questa squadra composta da questi buoni giocatori quando si parla sempre di questa pressione che c'è nell'ambiente è vero oppure soltanto un tormentone che giustifica ma chi fa calcio se non ha pressione viene abbandonato e dice che non viene considerato dalla piazza se hai pressione hai pressione bisogna accettarle bisogna accettarle qui a pescare bisogna accettarle c'è un amore accettare quelle che sono le critiche accettare quelle che sono i consensi avere la forza di lavorare c'è amore e continuare a lavorare io voglio dire che due partite che abbiamo fatto con il Polonia abbiamo visto che si scusami la spezia in questo momento la spezia 1 Carpi 2 al novantesimo ha accorciato le distanze Catellani sul rigore fallo che è stato fischiato per un atterramento dello stesso Catellani ad opera di Letizia però il Carpi ce l'ha fatta ha anche colpito un pallo con Di Gaudio nei minuti di recupero Nella prego grazie Andrea dicevo che l'ambiente è proprio vicino alla squadra abbiamo visto la curva che ha provito fino all'ultima ha chiamato la squadra sotto la curva insomma si sta dando anche questa calma sabato a Cittadella sabato dopo non l'ho visto a Cittadella io non ci stavo c'è stato il solito incontro mi raccomando la prossima volta tirate fuori gli attributi perché poi il tifoso altrimenti qui in casa è stata fatta è stata trattata bene se una parte della tifoseria se gli ultras e i tifosi che vanno ecco tipo a Cittadella poi alla fine hanno un colloquio così come raccontati tranquillo tranquillo questo è un segno di partecipazione di amore di interesse se no lo manda a quel paese e riparto appunto quindi la pressione non c'è qui qui c'è solo amore bisogna avere i ruoli e rispettare per quelli che sono le proprie funzioni la società deve fare la società i tifosi non fa i tifosi però bisogna convivere cioè la società non deve farsi condizionare no devono convivere mantenendo i giusti rapporti e ognuno portando avanti il proprio progetto quello dei tifosi è quello di vedere una squadra vincere quello della società è di costruire un gruppo che possa ambire secondo me la pressione sta più nell'esterno che nella tifoseria proprio sì sì ma io parlavo dell'ambiente l'ambiente l'ambiente veramente insomma l'ambiente veramente i dirigenti comunque mi sembrano degli sprovveduti quindi sanno gestire sicuramente questi momenti non avranno difficoltà a gestire questa situazione insomma ne hanno viste anche loro Valerio De Caris ultimo collegamento allora ci sono alcune domande per sempre per Antonio Oliveri quel 433 offensivo si chiede qual è il suo più grande rimpianto nei suoi anni di dirigenza rimpianti? sì quello di non aver licenziato De Canio nella partita in casa con la regina perché sono venuto a conoscenza che aveva firmato il contratto con l'Udinese il giorno il giorno dopo le responsabilità e le colpe questa volta gli ha ridotto ad Andrea Iaconi mi avesse detto che l'allenatore dell'epoca che era De Canio si era già messo d'accordo con l'Udinese quindi aveva la testa altrove non certo nella partita contro la regina dove ci siamo giocati poi la Serie A io l'avrei licenziato il giorno prima però se il Pescara con un altro allenatore avesse perso con la regina poi se l'avrei no no mi sarei preso la responsabilità non avrei avuto paura a decidere a decidere a decidere assolutamente ma poi rispetto De Canio siamo amici però quel gesto non io non glielo perdonerò né ora né mai io ho incontrato De Canio prima ancora subito ha detto che non è vero no no l'ha incontrato e ha fatto tutto quella cosa in televisione a rete 8 e ha detto che lui l'ambiente con lui non era più in sintonia che qua che là e vado via e ho detto sente mister lei va via perché sicuramente lei ha firmato un contratto all'accordo con qualche anno no signora io gli giuro gli ho detto senta ma a me sembra solo San Francesco d'Assisi che è andato via ha buttato tutte le sue richieste e io ho avuto il coraggio andando a Udine di ribadirgli questo mister lei a marzo aveva firmato il contratto aveva l'accordo con la cosa e io è l'unico allenatore scusa lo voglio dire in bub è l'unico allenatore che non ho potuto che non ho sopportato per tutta questa mia cosa di tifosa col Pescara che la Regina cambiò allenatore quel periodo o no la Regina cambiò allenatore con Volchi sì una settimana prima o una o due settimane prima io mi ricordo ma io avrei fatto disputare quella partita anche senza allenatore la nostra squadra e pensare eravamo molto più forti che molti tifosi sono ancora convinti che Gelsi abbia sbagliato appositamente per il rigore e fu richiesto stranamente dalla Regina per fortuna che non ci andò io il Torino ha fatto il biscotto io sono venuto a conoscenza dell'accordo che c'era stato tra De Canio e Ludinese dopo quella partita a marzo si era fatta no pochi giorni prima pochi giorni prima di quella partita ho firmato il contratto tant'è che De Canio andò da Andrea Iaconi e chiese ad Andrea Iaconi di risolvere il contratto a fine stagione perché aveva un altro anno di contratto Andrea Iaconi per questo vivere non disse niente alla società io lo rinfaccio sempre ad Andrea Iaconi questi episodi perché io poi ne sono venuto a conoscenza dopo la sconfitta giorni a seguirsi ma avrei sicuramente licenziato De Canio De Canio Valerio qualche altra domanda possiamo chiudere qui ci sono anche domande per lo studio chiedono se i nostri calciatori da presi l'acqua l'acqua e la teatina sono sufficientemente eseguiti e saggiamente controllati dalla società nelle ore selarie e notturne perché poi quando vanno via hanno tutto un altro rendimento ecco chi ci risponde a questo facciamo rispondere a Nella tu giri no giro io la sera non giro sento i ragazzi che girano pertanto io avevo già detto alla mister di guardare veramente l'ambiente e di tenere a base quei giocatori e far frequentare alcuni locali l'ultima da Mertel ci chiede se il direttore sportivo Pavone è poco presente in che senso lui scrive DS Pavone è poco presente poco presente Masha non credo che debba scendere in campo quando sono le partite credo che il lavoro di Pavone sia un lavoro magari non non prevede passerelle interviste tra l'altro mi sembra anche un tipo un po' riservato quindi magari è sempre stato poi sembra che il lavoro di Pavone si debba vedere nell'organico che è stato impostato Senti ma quella domanda che hai fatto prima Valerio Sì c'è alla pagina alla prima pagina della news la trovate eccola lì c'era qualcuno che nello specifico non voleva far entrare Oliver nel Pescara ma è stata una scelta sua quindi abbiamo chiuso pure abbiamo sciolto questo dubbio Francesco che vuoi chiedere Antonio Riveri? Eh quando è che siamo una sera insieme? E che cosa gli devo chiedere? Niente Invece Sarebbe interessante io non posso pure che non lo ricordo sarebbe interessante un Giuseppe Olivieri da qui ai prossimi dieci anni va bene fra dieci quindici anni va e vedi un po' quindi non lo ricordo fra vent'anni su sta dietro le guida il ragazzo il dirigente del Pescara Arturo Ragusa ha fatto due gol con Carlo Tivenzi Non è voluto venire qui? Non è voluto venire a Pescara questo non glielo perdono mai non è vero lui è l'agente assolutamente allora dici la verità perché ce l'abbiamo un po' con Ragusa no no la verità è che era il momento del mercato lui aveva in quel momento la stima di Casperini a Genova no non l'aveva avuto mai la stima in quel momento sì e tant'è vero proprio giocare anche con Napoli aveva fatto sì sì era la domanda era la mia se non aveva la stima non faceva i 15-20 minuti con Napoli aveva giocato in pre-campionato aveva fatto benissimo con lui in Germania nella tournée in Germania e dopodiché ha avuto richieste da squadre principali di B che erano Bologna e e un'altra squadra di B e Latina c'erano anche altre squadre e Latina è superiore a Pescara? no no fermo fermo è chiaro che per fare per fare l'operazione ci voleva il benestare del Pescara e il Pescara non ha dato il benestare a Bologna il problema non era solo a livello che il ragazzo non voleva tornare a Pescara c'era una situazione contrattuale da sistemare che è stata sistemata dopo e il Pescara ha dato il benestare al Vicenza per fare l'operazione ma non è vero che i ragazzi Pescara ci risulta per ammissione quindi salvo prove contrarie si assolvi in casi del genere quindi si crede per ammissione degli stessi gli annascoli che il Sebastiani che stavano facendo di tutto per riprendere c'è stato un momento che stavano facendo di tutto però ci vuole anche la cosa l'Asperini ci aveva la Francesco credeva in problemi economici né più né meno problemi economici né di volontà né di lavoro allora signora Sforzini ti ha deluso un po' ha detto a Pescara sognano a Pescara sognano soltanto l'incubo era lui forse no quello che mi ha deluso che lui ha detto che Pescara ha fatto non ha parlato bene di Pescara quando io vorrei dire giustamente chi ha dato di più lui al Pescara o il Pescara a lui semmai lui non ci ha dato manco un gol ma che ci ha fatto un gol o due un gol in due anni eh non l'abbiamo mai Andrea possiamo chiudere con i messaggi abbiamo visto il messaggio lo riproponiamo eccolo qui signori si nasce signore Liveri tu non acqui Mario Datero un messaggio simpatico possiamo vedere qualche altro messaggio sì dopo i complimenti a Rocchi alla rete avevo anche fatto una domanda agli ospiti se pensano che Baroni andrà via se continua così tra 3-4 giornate grazie forza Pes avanti che ne abbiamo anche parlato vuoi ribadire? no speriamo di noi ragazzi perché non c'è solo in cosa dice? vedrete il Pescara risalirà la classifica a maggio vi richiamerò come dice l'ex presidente Oliveri se miglioreremo in difesa le altre squadre si dovranno preoccupare forza Pescara dice Pino e poi ancora penso che abbiamo abbiamo finito Enrico un'ultima cosa giusto per sottolineare l'importanza della gara di domani dal latinacotidiano.it possiamo vedere Latina Calcio 5 punti in 4 partite Beretta il tecnico in Latina dice io sono il primo responsabile Pescara match fondamentale a te Andrea intanto ti ringrazio saluto anche Valerio De Carvis non so se ci sono aggiornamenti dal portale Forza Pescara Valerio solo una voce unanime rivolgono tutti Antonio Oliveri nella dirigenza anche anzi alla presidenza della Pescara Calcio lo vogliamo un po' anche tu anche io cosa si sente di dire alla coppia Sebastiani e Annascoli un bocca al lupo gli faccio i complimenti perché resistere in questi momenti e continuare a fare calcio in una situazione così generale bisogna avere tanto ma tanto coraggio quindi un in bocca al lupo grande grande tanti speriamo successi per loro e per la città di Pescara vengono anche io anche l'ex sindaco Mascia cosa vuol dire alla coppia di dirigenti con i quali hai lavorato anche negli ultimi anni avete avuto anche ottimi rapporti ho sempre detto che sono stato almeno per questo aspetto un sindaco fortunato perché non ho avuto i problemi che hanno avuto altri sindaci a Pescara e anche in altre piazze importanti quindi grato per quello che fanno sono d'accordo con Antonio Oliveri Nella ci siamo dimenticati il 10 ottobre c'è la finale di Miss Tifosa Hotel Serena Majestic la tifosa più bella d'Italia la miss tifosa non la dobbiamo nominare perché si è confondo con tutte le miss questo è un gioco che vogliamo fare per sdrammatizzare un po' tutto questo crimine siete favoriti per la vittoria finale? ma io mi preoccupo molto perché dici ma che fa sempre Pescara vinge almeno vinciamo lì almeno lì vinciamo l'anno scorso a Salerno con tutti i salernitani ha vinto quella portata dal Pescara quest'anno vediamo insomma la stiamo preparando le società sono già hanno risposto le tifoserie abbastanza abbiamo già 13-14 squadre tra cui Milan Inder, Roma Lazio Napoli Bologna insomma tutte le squadre di serie B stiamo veramente siamo veramente contenti si terrà l'autorium Flaiano e sarà una bella speriamo una bella cosa ah il Flaiano quindi noi avete cambiato sì perché abbiamo avuto una cosa anzi devo dire e abbiamo anche messo in contatto con lui va bene al Flaiano insomma si farà sì Carlo Di Renzo sono già diversi anni che sei entrato nel mondo del calcio hai avuto già grandi soddisfazioni opere ovviamente in diversi paesi il tuo sogno nel cassetto per questa attività è un po' la domanda banale che si fa però ecco dove pensi di di arrivare? ma guarda io non è che mi fissi tu punti molto sui giovani no? no sicuramente mi dà soddisfazione prendere un ragazzino a 13-14 anni e poi portarlo su però non è che mi pongo obiettivi ho limiti sono già contento di quello che ho sono soddisfatto posso coltivare la mia passione è un lavoro quindi va bene così in bocca al lupo anche a te Francesco un'ultima domanda sia al tuo ex sindaco Bo Isveri se alle società che lo hanno avvicinato in questi anni ha sempre detto di no perché avrebbe detto di sì al Pescara oppure se ha detto di no solo perché ancora deve smaltire i tanti anni di calcio no non sono stato avvicinato da nessuna altra società è chiaro che se tornerò e se un domani dovessi tornare a fare calcio l'unica piazza dove penso di poter far calcio e pescare. Se dovessi dare un consiglio calcistico all'attuale sindaco che consiglio gli daresti? Visto che lo vedi praticamente tutti i giorni, consiglio comunale insomma. Il consigliere di frequentare lo stadio, ho visto che era presente già una partita col Bologna e quindi è importante che un primo cittadino sia presente tra il pubblico, che sia vicino alla squadra, lui in passato non l'ho visto e fa bene adesso invece a cambiare, quindi non ho nulla da consigliargli sotto questo aspetto, magari potrebbe essere presente in qualche trasmissione televisiva così anche. Ecco una notizia di azionalità. Scusa, io lo chiediamo anche noi come tifosi al sindaco di essere presente. Ecco oggi c'è stata una dichiarazione per chiudere da parte del Presidente della Camera di Commercio Becci che sostiene che bisogna privatizzare alcune situazioni di proprietà del Comune e tra queste anche lo stadio Adriatico. E noi ci avevamo lavorato su questo, c'erano alcuni impedimenti di carattere giuridico rispetto a questo, questa è una delle questioni che andrebbero affrontate. Penso che questa società prima o poi arrivava… Aveva manifestato un interesse convinto rispetto alla possibilità di gestire lo stadio, c'è un problema anche da risolvere perché il nostro stadio non è uno stadio solo per il caldo. Ma sarebbe quello il primo passo di tutte quelle riforme che abbiamo accettato? Non dico che avevo l'età di mio figlio quando si parlava, però poco ci manca, poco ci manca. Con la situazione attuale secondo me sono solo, scusatemi, ma chiacchiere insomma. Il centro sportivo invece può essere… Deve essere un obbligo della federazione, la federazione si deve imporre che le società di calcio si devono dotare di strutture proprie e iscrivere le squadre quando hanno la condizione di poter avere le proprie strutture, quindi i comuni devono essere obbligati per far calcio nelle proprie città di dotare le società vendendo, perché è giusto che un bene pubblico debba essere pagato da una società privata, però vendendo lo stadio perché sarebbe un costo in meno per la comunità e una fortuna per una società a poterlo gestire. Grazie Antonio Oliveri, grazie a Luigi Albori Mascia, grazie a Nella Grossi, a Carlo di Renzi e Francesco Di Francesco, al Pescara, grazie a Andrea Costantini in regia, a Valerio Decaoris dalla relazione a ForzaPescara.com, grazie a voi tutti che ci avete seguiti da casa, ringrazio in particolar modo Oliveri perché ha scelto di tornare qui dopo dieci anni, però siete tutti sempre uguali, possiamo rimettere i nastri di dieci anni fa, grazie per averci scelto, grazie. Serie B, il campionato degli italiani.